Va avanti con poche modifiche in Parlamento la legge di bilancio, che giudizio ne date? Giudizio certamente negativo, il bilancio interessa quantitativamente per il 70% le misure necessarie per le cosiddette clausole di salvaguardia, per evitare che dal 1 gennaio aumenti l'IVA e le accise, quindi 15 miliardi dei 24 complessivi interessati alla manovra servono a mettere il TAP per evitare i disastri previsti dall'appartenenza ai trattati internazionali europei, peraltro con un rinvio all'anno prossimo per il prossimo governo, qualunque esso sarà, per provvedere a evitare queste misure che avrebbero un effetto devastante. La minor parte, circa 9 miliardi del resto della manovra, interviene in maniera non strutturale, spesso con microinterventi settoriali che non lascia intravedere un respiro ampio di un Paese che vuole riprovare veramente a ripartire con interventi strutturali, come ad esempio il riavvio della spesa pubblica per opere utili. Intanto restano aperti molti temi che saranno probabilmente per gran parte rinviati alla prossima legislatura, come l'età pensionabile, l'articolo 18, la buona scuola che a molti non piace, che farete? Noi le nostre proposte le abbiamo già illustrate e messe in campo, evidentemente non sono state accolte in tema di pensione, noi abbiamo identificato alcuni punti volti ad affrontare la questione sia della qualità della vita del gran parte dei pensionati, noi sappiamo che il 25% delle pensioni non supera i 500 Euro mensili, che il 20% dei pensionati oggi hanno difficoltà a sostenere le spese per il solo riscaldamento, sappiamo che il 47% dei pensionati a fronte di una spesa imprevista di 800 Euro sarebbero in grande difficoltà, le misure che noi proponiamo sono quella di stabilire un tetto alle pensioni d'oro cosiddette, noi riteniamo che 5 mila Euro netti mensili come trattamento pensionistico non siano più che sufficienti e dignitose anche per i ruoli dei pensionati di rilievo e quelle risorse potremmo impiegarle per alleviare lo stato di povertà in cui una buona fascia dei pensionati sta esiltando e poi c'è la nostra misura regina, il reddito di cittadinanza, quello che prevede che ogni cittadino debba poter contare su un reddito di almeno 780 Euro mensili per un single come esempio, che è un criterio che inciderebbe anche per i pensionati che pur non essendo in età lavorativa, però consentirebbe di affrontare in maniera dignitosa il futuro che gli aspetta e poi un'altra idea che noi abbiamo messo in campo è la cosiddetta staffetta generazionale, cioè far sì che l'andata in pensionamento sia accompagnata dall'ingresso di un lavoratore junior insieme al senior che si accompagna dove progressivamente il numero di ore lavorate diminuisce per chi va in pensione e c'è un nuovo ingresso nel mondo del lavoro, questo servirebbe anche a scrostare un attimo lo status quo che vede i livelli dell'occupazione soprattutto giovanile continuare ad aumentare nonostante tutti i buoni intendimenti governativi di questi ultimi governi. Queste sono alcune misure che sono fattibili, il reddito di cittadinanza alle coperture le si troverebbe, occorrerebbe anche nell'ambito lavorativo incidere anche sulla macchina che permette l'accesso al lavoro, noi nei nostri 17 miliardi di manovra complessiva annui per il reddito di cittadinanza, due di questi sono mirati al potenziamento dei centri per l'impiego con un sistema di avviamento e di formazione al lavoro che una volta a regime potrebbe veramente cambiare il volto a questo Paese ricordando che non sarebbe una misura assistenzialistica perché poi chi rifiuta per tre volte un'offerta di lavoro vedrebbe decadere questo reddito di cittadinanza che vuole essere una mano con cui la comunità, lo Stato accompagna chi sta attraversando un momento di difficoltà. Sull'articolo 18 noi abbiamo sempre sostenuto che la sua abrogazione sia stato un errore, l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori noi siamo a favore del reinserimento della possibilità dell'obbligo di reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa, noi diciamo che per le imprese al di sotto dei 15 dipendenti invece sia necessario impostare una normativa di natura fiscale contributiva di tutela perché in questo caso i piccoli imprenditori sono la parte più sofferenza del mondo produttivo italiano e andrebbero aiutati e accompagnati con uno snellimento della burocrazia con un minor peso fiscale e anche di tipo contributivo evidentemente a carico del datore di lavoro. Intanto il vostro candidato Premier Luigi Di Maio ribadisce andremo da soli, nessuna alleanza con nessuno, è così? Se l'abbiamo detto sempre e lo ripeteremo ancora, noi affrontiamo la politica e anche un'idea di governo se gli italiani ci vorranno dare fiducia in una maniera nuova e rivoluzionaria, non più cercando accordi e alleanze per spartizione di ministeri o di cariche di sottosegretario, ma identificando delle cose da fare, magari saranno poche, magari una di queste sarà il reddito di cittadinanza che come dicevo potrà veramente cambiare la faccia di questo Paese e poi in Parlamento nel luogo deputato della Costituzione, se ci sarà una maggioranza di parlamentari che appoggeranno un governo a 5 stelle che avrà una coloritura non di tipo ideologico, ma concentrata su cose da fare, allora si potrà andare avanti e potremo dare finalmente un volto nuovo al Paese spezzando la catena del gioco della politica partitica.